Le riprese di Gomorra 4 da aprile 2018, la serie andrà in onda inizio 2019 L'attore Salvatore Esposito, interprete di Jenny Savastano, annuncia l'inizio dei lavori nelle prossime settimane e offre anche anticipazioni sulla messa in onda della quarta stagione di Gomorra Partiranno ad aprile 2018 le riprese di Gomorra 4 la serie, la nuova stagione della serie televisiva di successo internazionale, venduta in decine di paesi del mondo e certamente tra i prodotti artistici italiani più apprezzati degli ultimi anni A dare la notizia dell'inizio dei lavori è stato, sul suo sito personale, Salvatore Esposito, che in realtà conferma quanto già si vociferava nelle ultime settimane rissa le tempistiche per la realizzazione e la messa in onda della prossima stagione di Gomorra Ecco quello che si legge sul sito internet dell'attore interprete del personaggio di Jenny Savastano dunque esposito annuncia anche il periodo di messa in onda di Gomorra 4, prevista per l'inizio del prossimo anno e dunque a un anno e mezzo di distanza circa dalla messa in onda della terza stagione Nell'ultimo capitolo della serie la narrazione, come noto, si era spostato in diversi quartieri della città di Napoli, sia al vomero che al centro storico della città partenopea Utlima zona, questa, che continuerà ad essere, battuta, nel corso delle riprese, visto l'interesse della produzione a girare in un noto locale della zona Giorni fa il proprietario aveva palesato questo interesse, chiedendo su Facebook ai suoi fan se fosse il caso o meno di offrire disponibilità per le riprese anticipando, sostanzialmente, la notizia stessa dell'inizio delle riprese a breve